Mariano Ciarletta, giovane scrittore residente a Mercato San Severino di 23 anni, uno scrittore si può dire già affermato perché in effetti ha realizzato due romanzi, due raccolte poetiche, il primo romanzo Rami nel buio, il secondo Ai bordi dell'abisso, una prima raccolta poetica Foresta delle Rose Scarlatte, seconda raccolta poetica Sentire, ed ora Mariano ci racconta quella che è la sua terza opera poetica. Prego Mariano a te dire tutto insomma del titolo e del contenuto di questa raccolta. Sì, allora grazie Mario. La terza raccolta poetica che è uscita una settimana fa con l'Aracne Editrice di Roma si intitola Tramiti e Silenzi. È una raccolta poetica che verte comunque sulla tematica mitica storica e soprattutto anche diciamo su quella che è la tematica drammatica, dell'amore drammatico non realizzato. Questo perché? Perché quasi sempre io ho diciamo questa concezione dell'amore inteso non in maniera come realizzata, come felice, come appunto un amore che dà soddisfazione all'altro, ma è un amore quasi sempre incompiuto e questo si riversa o nell'aspetto comunque di miti che vedono appunto diciamo personaggi che si struggono per il tema amoroso e alla fine uno dei due comunque viene meno, cioè muore, ma accanto a questo soprattutto c'è l'idea dell'amore che non può essere realizzato e non può essere felice. Questa comunque è una concezione mia personale che riverso sempre comunque nelle mie poesie. Un altro aspetto importante è poi quello mitico. Perché mitico? Perché io sono sempre stato affascinato fin da piccolo da quello che è il tema della mitologia, sia la mitologia egizia, la mitologia greca, la mitologia nordica. L'aspetto nuovo però è questo, che invece di riproporre poesie per esempio sui miti già conosciuti, ho preferito riproporre dei miti miei personali, cioè sostanzialmente inventati, in cui si vedono per esempio fanciulli, ninfe o anche semplicemente anche esseri appunto che appartengono all'oltretomba e che comunque diciamo entrano in contatto con gli esseri umani. Quasi sempre questi esseri appartengono anche un po' a quello che è il cosiddetto mondo esoterico. Infatti visto che io comunque sono uno scrittore dal punto di vista del romanzo, come tu ben sai, affine comunque al tema dell'esoterismo, al tema comunque diciamo dell'orrore anche, ho riversato questi temi anche all'interno della poesia. E devo dire che il connubio è stato abbastanza originale, tant'è che la casa editrice Arachne ha scelto comunque di sostenirmi. Ecco Mariano, puoi descriverci la differenza tra questa seconda raccolta di poesie e la prima? Sì, rispetto alla prima raccolta, che era diciamo piuttosto generale, perché comunque trattava anche di temi storici come per esempio i miei personaggi preferiti da un punto di vista storico, c'erano però anche accenni sul personale, ricordiamo la poesia per esempio dedicata ad un angelo, un'amica che purtroppo è venuta a mancare, questa volta le poesie sono quasi sempre specifiche, cioè trattano comunque temi e situazioni che hanno riguardato la mia vita e che sono riversate inconsciamente all'interno comunque di queste poesie storiche, mitologiche e anche sull'amore appunto diciamo non realizzato. Ecco, Mariano Charletta quindi non solo scrittore, ma anche potremmo dire attore, tra virgolette insomma perché si è dedicato anche ad un trailer, al trailer dei ai bordi dell'abisso, se ci descrivi anche diciamo questa passione ecco per il filmato, perché penso sia diciamo come dire un trasmettere attraverso le immagini quello che tu trasmetti con la scrittura. Guarda, ti dirò, credevo che la poesia e la scrittura fosse comunque qualcosa di faticoso, ti dico la verità, perché comunque richiede molta costanza, molto impegno e anche soprattutto il dopo, ma secondo me l'essere impegnato ecco in un cortometraggio, un cortometraggio comunque serio perché il regista Marco Cicalese si è messo a nostra disposizione ecco per realizzarlo, è comunque abbastanza faticoso, più che altro anche per le applicazioni che sono subentrate per esempio dal punto di vista del make-up, del trucco che sono state veramente molto lunghe, infatti comunque io ho rivestito il ruolo di Ranier Bergson che nel romanzo è appunto diciamo il posseduto, quindi giustamente ho dovuto applicare anche delle correzioni al volto, nonché appunto diciamo dei trucchi che sono stati abbastanza pesanti e che hanno impiegato molto tempo, quindi questo sicuramente è stato l'aspetto più faticoso. Il trailer è stato diciamo un successo perché conta che viene comunque da una piccola casa cinematografica e già ha fatto quasi 9.000-10.000 visualizzazioni sul web, quindi giustamente è stato comunque voglio dire una bella soddisfazione, prima di tutto per noi del cast che ci siamo impegnati, Luigi Coraggio che tu conosci e anche Marco Cicalese appunto che è il regista che ha lavorato veramente in maniera professionale, ma sicuramente è stata una bella soddisfazione soprattutto appunto per il regista che ha realizzato davvero un bel lavoro. E allora una domanda sempre dal punto di vista potremmo dire dei cortometraggi, hai in mente di realizzarne qualcun altro magari anche sulla raccolta di poesie oppure su un altro romanzo sul quale stai lavorando? Ma guarda, a me piacerebbe molto perché credo che piuttosto che fare un book trailer statico, il cortometraggio sia comunque un mezzo attraverso cui tu comunichi molto di più e incuriosisci tanto lo spettatore, perché io ho avuto dei messaggi anche diciamo sui profili, sui blog dove c'è il mio libro, che mi chiedevano se il cortometraggio era per caso un film, quindi addirittura è stata veramente una bella bella soddisfazione e di conseguenza il pubblico è stato incuriosito per comprarlo, tant'è che le vendite comunque si sono alzate di parecchio. Quindi spero che per un prossimo romanzo, sempre horror o dark, ci sia la possibilità di realizzare un altro cortometraggio. Ecco, la tua è una formazione letteraria, ricordiamo tra l'altro che da poco ti sei laureato in beni culturali, quindi innanzitutto complimenti. Quindi da questo punto di vista, anche basandoti sulla tua formazione, potresti anche raccontarci quella che è la differenza tra la poesia classica rispetto al romanzo? Ma guarda, la poesia classica purtroppo, anche se secondo me è un'arte elitaria, c'è per pochi comunque, perché la poesia classica è molto complessa da capire e solo attraverso un'accurata riflessione, un'accurata lettura, si arriva veramente a quello che è il contenuto della poesia. Ovviamente il romanzo è più accessibile, ma io lo dico anche da scrittore di romanzi, cioè la verità, e anche da un punto di vista commerciale, purtroppo bisogna mettere sul piano della bilancia le due cose, perché la poesia oggettivamente vende di meno, è qualcosa che viene scelta sempre di meno, ma più che altro perché secondo me non viene compresa pieno, perché purtroppo la poesia comprende anche un'accurata riflessione, un'accurata analisi che spesso il lettore non è disposto a impiegare. Magari uno torna stanco dalla giornata e preferisce leggere qualcosa di più, come dire, semplice. Mentre il romanzo, ovviamente, diciamo quasi sempre, ha dei connotati più commerciali, magari se è un romanzo, ecco per esempio, di denuncia sociale, oppure un romanzo storico, già di meno, perché comunque implica una certa applicazione. Però se è un romanzo horror, come quelli che scrivo io, un romanzo fantasy, un romanzo rosa, per dire, sicuramente è, diciamo, più commerciale, più accessibile. Ecco, un'ultima domanda. La tua formazione, abbiamo detto, letteraria, ti sei formato qui a livello locale, però sappiamo anche che la tua esperienza la stai trasmettendo anche al di fuori di quello che è il territorio locale. Ci puoi raccontare un po' di queste tue esperienze di formazione? Sì, allora, io ho fatto una bella esperienza, devo dire la verità, a Malta, dove sono stato invitato, diciamo, a un convegno di scrittori. Eravamo tutti molto giovani e qui abbiamo presentato un po' le nostre opere. Devo dire che è stata un'occasione molto bella per conoscere nuove persone. L'unico problema, ti dirò, è stato dal punto di vista della lingua, perché abbiamo dovuto ritradurre le nostre poesie dall'italiano all'inglese e quindi abbiamo avuto anche bisogno dei traduttori, che però sono stati veramente gentilissimi. E quindi io, ti dirò, sono pienamente soddisfatto, perché comunque mi rendo conto che la mia realtà si sta ampliando e per me ormai non si parla più di realtà solo locale, ma di realtà quasi nazionale, possiamo dire, quindi sono veramente felice. Bene, allora complimenti e ricordiamo dove poter trovare questo tuo libro, i tuoi libri, dove poterli trovare a tutti i nostri spettatori. Sì, allora i miei libri sono disponibili sia su Amazon, per quanto riguarda il digitale, in ebook, e negli altri comunque settori delle piattaforme digitali, mentre per quanto riguarda il cartaceo, soprattutto l'ultima raccolta, tramite silenzi, è ordinabile in tutte le librerie nazionali. Grazie. Grazie.